Salve a tutti ragazzi, qui è Cianchei Parla, benvenuti in questo nuovissimo video Oggi apriamo le 10 bustine di Aquapolis Sono 10, benissimo Sono in compagnia sempre di Cicorita e di Schevalera No, e di Schevalera Shashmi? Shashashelera Allora, in pratica io con queste bustine ho trollato Card Game Sì, ho trollato Card Game, perché? Quest'ordine l'ho fatto, non so, praticamente, i primi di giugno praticamente, sì I primi di giugno A 1,68€ queste le ho prese, pochissimo Una settimana dopo, sapete cosa fa Card Game? Aumenta il prezzo delle bustine a 2,90€ Cioè, io ho, diciamo, rifilato in queste bustine un Euro e 30 Mi sento un dio Ok no, non perdiamoci in chiacchiere e avremo le bustine Allora, ne abbiamo 4 di Arcanine Una sola di Entei che è pure abbastanza rovinata Non è giusto, però sapete, sono abbastanza vecchie queste bustine Quindi, 3 di Tyranitar E 2 di Shizor Bene Io in questo set potrei pure non trovare la Olo Sul serio Quindi, perché per esempio Datepok Non ha trovato nemmeno una Olo in 10 bustine Quindi, speriamo dai Almeno una Olo Guardate, io faccio così, ecco Vai, proteggici Gigi Eh, vabbè, gigito Ok Cominciamo con questo Arcanine Ah, ragazzi, questo è un set spettacolare Composta a 168 carte Ho 186 Qua in questo set si trova una delle mie Olo preferite in assoluto, eh Intanto comincio ad aprire In assoluto, perché devo salvarle In assoluto L'antornolo Mamma mia, ragazzi, questo Olo è spettacolare Io la vedo a tutti Io la vedo a tutti Ieri l'ho vista anche nel mio capolega E ho detto Sai che se non la trovo nelle bustine di acqua polissima la puoi scambiare No Grazie Grazie Quindi, ragazzi, se la trovo io, ok Posso pure regalarvi le bustine restanti Allora, il trick lo so, però È un poco antipatico, ecco Allora, vi spiego un po' Nei pacchetti di acqua polissi si trova sempre una rara e una reverse Poi c'è una potenziale Olo che è una comune Questa qui Cioè io in questa potrei trovare sia una Olo che una potenziale comune Anzi, al contrario Qua c'è la rara e qua c'è la reverse Spero di aver fatto giusto il trick Ma comunque gli artwork di queste... Oh, per madonna che... Ma sono fighissime ste carte Mamma mia, wuvat, cubo metallo Tu ci sei sempre, vero? Sì, sì, davvero Ok Tangela Porion Cinchiu Siamo a metà dell'opera, dai Lascio qui, grow light, bellissimo Ecco, cubo acqua reverse Belle reverse Optile di raro E nidoran che è comune Non è... Ma è fighissimo questo nidoran Sembra un My Little Pony My Little Pony Esatto Eh, la rara... La metto da parte? Sì, da Ok Dai, Cico Proteggi le nostre bustine L'ho salvata la bustina di Arcanine Quindi potrei anche romper Arcanine è bello... Ma mi ha trovato un po' delice Eh? Salva un po' delice Di cosa? Di Arcanine, di bustina Sì Ah, va bene, ok Vuoi la bustina vuota, ovviamente Sì, è giusto Ok, questa si è rotta un poco Però non è messa Uno Smoshamp ultra mega figo Un, due, tre, quattro Un, due, tre E questa a me Ok Nel fuorionda diceva Duot Che trovavo l'uglia cristallina Ecco Sei ancora sicuro? Sì Ah, va bene, allora Smoshamp L'importante è crederci Nidorino Che è l'evoluzione Bello questo Questo Hitmontop è bellissimo Oppip che sembra fatto di cera Kangaskhan Il super figo Merip Oddio Eh, aspettate un attimo ragazzi Breve pausa Ok, scusate ragazzi Ma mi chiamavano Scusate Eh, al telefono Quindi riprendiamo Non ho visto niente E c'è Duot testimone Allora abbiamo Merip Uh, sidra che è Ah, no, è comune No, non comune Reverse Bello Poi abbiamo foresta dei Oddio, avevo letto Foresta degli Albicocco Ho detto Che cosa? C'è una holo L'Anturno Oddio Davvero? Oddio 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 No, 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 no La mia holo preferita Te l'ho detto Che la trovavi Non ci posso credere Madonna Cioè ragazzi L'avete sentito A inizio video Cosa ho detto, no? La holo che Una delle mie preferite Oh, santo Dio Mamma mia Oddio Ho anche detto Che se trovavo L'Anturno Regalavo tutte le bustine Oh, che ho Regalavo tutte le bustine Oh, sì Oddio Madò Io quanto lo amo L'Anturno Chi mi segue da tanto Lo può sapere Anche perché è stata La mia prime La mia prima prime L'ho cercata ovunque L'ho chiesta A un sacco di youtuber Mi hanno detto sempre No, l'abbiamo già scambiata E adesso sapete dove andare Perché ce l'ho E vai Mamma mia Mamma mia Mamma mia Mamma mia Mamma mia Mamma mia Ok A voi Cioè io ho visto Ho visto che c'erano L'ho detto L'Anturno 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 Ed esce L'Anturno Che culu 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 Che culu Culu Mamma mia Ok io adesso potrei pure No, la mia cristallina La mia cristallina C'era qua No, guarda Non mi interessa Potrei pure non trovare niente Io adesso Non mi interessa Salviamo la bustina di Arcanine Per view Ecco Benissimo Wow Bella questa Energia curvatura Ho l'ultima possibilità Per salvarti la bustina 1, 2, 3, 4 Comunque il trick mi sta riuscendo bene Per fortuna Perché è antipatico Bisogna fare un sacco di cose Allora abbiamo Energia curvatura Super rimozione di energia Hondur Mega figo Grimer Povero Spaventato Che Oddio ho visto Oddio cosa ho visto Giulia No no Praticamente Ho visto per sbaglio La rara Perché Ho trascinato Tutte le carte E che rara Ora vedi Porygon Vulpix Oh mio dio Bellissima Furret non comune Reverse Lantern Rara Cioè La volevo tantissimo Ora ce l'ho Rara E V per Non comune Oddio No Ho messo Lantern Insieme alle comuni Mortali Ok Ultima Sacrilegio Ultima Con Arcanine Allora adesso Questa Esatto Devo andare Abbastanza piano Però adesso Sai cosa potrebbe pensare La gente Che in quella bustina Che ho aperto Di Lantern L'avevo tipo Ho già vista O camuffata Ma ragazzi Voi mi conoscete Quindi Non ho fatto niente Perché Avete Avete anche sentito Mi sembra Sì perché C'era ancora l'audio Del Del mio telefono Che squillava Ho dovuto Rispondere per forza Perché sapete Come sono le madri Appena non rispondi Ad una chiamata Quindi E' meglio Rispondere No Qual è quella Che c'era Una sola Entail Ho messo Alla fine Qual è che veni tu Ma le altre Se ce l'hai ripetuta C'è anche Se bando Sì Tranquillo Poi risalverò Qualche buste Di plasma Qui Oh Spoiler Maledetto Allora abbiamo Un cubo lampo Un V per mega ultra figo Voltor Voltor Goliit Kangaskhan C'è tutte e doppie Ah ecco Hitmo C'è Ok Una pista Faccio vedere anche a lui Perché deve assistere Lo vedi Io odio Questo va imbustato Adesso lo imbusto La rara è slowking E' un polygon Questo va imbustato Io odio No questo va imbustato Questo va imbustato E tu vado odiato E io vado odiato Ma questo va imbustato Eh Sì però sto avendo sfiga Vedi eh Quattro bustine Ancora una holo Ok ne abbiamo adesso tre Mi pare Sì con tyraniter Questo cerchiamo di salvarlo Per il sommo duo Anzi questo Questo per me Questo è per me Oddio perché non riesco ad aprire Questa bustina Ecco l'ho strappata Bene Due su due dovrei fare Un mega ultra record 1 2 3 4 1 2 1 2 Ok Sto trick è uno Shreggimano Fluffy che mi mancava Cuboscurità che mi mancava Tangela che avevo Bellissimi questi Bellsprout Magramite ultra mega figo Hitmonchan Doduo Reverser Electrode E execute Schifosissimo Stiamo andando abbastanza Schifo Abbastanza Stiamo andando abbastanza Schifo Io non la voglio Una sola holo Il mio capolega In una bustina Ci ha trovato Un entei holo Sappio E tu non lo chiedi Che non la vuoi E ma dai No tutte le bustine Strappate No Dai No Vabbè In caso che stai Io me la posso pure tenere Non ci fa niente Non so quale ho ridotto Peggio delle due 1 2 3 1 1 1 2 3 1 2 1 4 6 8 10.038 Dunque le artwork Di queste bustine Sono fantastiche Super rimozione di energia Prestigiatore Che mi mancava Tentacool Cubone Che questo pokemon È pucciosissimo Ondurra oscurità L'abbiamo trovato fuoco Tanghiela ancora Anfaros raro reverse Sì è raro Mi tremano le mani Primeape E mister mime Cioè aspetta Quante Quattro bustine Ci restano Ancora solo una holo E una holo reverse Vabbè Zapdos può essere Sia raro che holo Perché in questo set Ci sono Cioè ogni Ogni rara È pure foil In questo set Che schifo Solo che non lo può usare È un punto Cioè nel set In plasma È proprio solo un oro No sto spiegando di brutto Ancora io proprio Però la ti piace Eh magari quella dai Quella vale per me Come una full art Ve lo sto già dicendo Eh ma dai Che cavolo Cioè nemmeno una Ne ho salvata di Taran Che ha fatto Ah no Anzi salvata Che ha fatto anche schifo Taran Ancora super rimozione D'energia 2 Ma chi è Perché sto confrontando Queste due carte Ok non c'è nemmeno una holo Fantastico Super rimozione di energia Energia curvatura Femfi Forse c'è una cristallina Oregon Tentacle Oddish Me lo fanno apposta Allora mi devono far amare Per forza questo set Non mi fanno trovare Holo Ma mi fanno trovare Lanthornolo Lanthorn raro Cinchù normale Cinchù reverse Veramente Uh fighissimo Questo Elekid raro E it moncia Ci restano le ultime tre bustine Aspetta Io adesso caccio questo Cicorita Perché mi sta rompendo Sinceramente Cicorita Licenziato Cicorita porta sfiga Cicorita porta sfiga Cicorita porta sfiga Apriti Bene Stavo dicendo Maledetta bustina Maledetta bustina Maledetta bustina Di scisor Apriti e fammi trovare Una holo Anzi voglio trovare Una ex Una shiny con i bordi Gialli Anzi dorati No ma io non ci credo Non voglio uscire con due holo Da questa apertura E manco C'è nemmeno qui la holo Magno e gold Ok E appunto All gold in it moncia Penfi Tentacool Azumarill Raro reverse Stiamo trovando abbastanza Raro reverse Ecco Energia oscurità rara Carta inutile E tanghella Ecco Crasse Che non sei destinato Cicor Entei No ma io ho più paura Per il set base Perché io Io qui mi accontento Di lantern Ok Ma lì Libre Non c'è hazard No Non c'è hazard Ma almeno una All C'è Un giri Paffine Sì Mamma mia Tutta rotta Ho una media Spaventosa In queste bustine Cioè Se in dieci bustine Trovo soltanto una olo C'è da spararsi Solo questo Però si potrebbe rimediare Tutto con una bella crista Chi lo sa No 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 È impossibile È impossibile Golda Marua Grimer Drowsy Pinsir Execute Cubofuoco Di nuovo Forresta degli Apricorn Neononix Ultima bustina Ultima Sì Faccio vedere a me Le tartere Per favore Ti faccio vedere la rara Pure è rotta L'ultima con ente E la presunta O Di nuovo un golda Perfetto Che farà ferisce A qualcosa inutile Di tacchi 1 2 3 4 1 2 Uno sbircio La vedi? Perché non so dove metto le mani Ecco Vai su Su Per sinistra Ah non l'hai vista L'hai vista Charm Stai zitto 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 Golda Energy Extra Stai zitto Anche se c'è qualcosa di bello Oh Brilla Liquidum Bull Sai Mio Dio Cristo Santissimo Ti amo Aquapolis Cavolo Non ci credo Date mi odia 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 Dio Io ti amo Dio Io ti amo Non pensate Oddio 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 Santo mio Oddio Buonissimo Viva la Madonna, Sant'Antonio sia con me Mamma mia Io ho capito tutto dalla tua reazione Perché io non l'ho visto, vi giuro ragazzi Perché infatti nemmeno sapevo se gli mettevo bene la carta Lui mi diceva sinistra, sinistra, sentivate no? Non ho sbirciato Però ho capito dalla sua reazione Perché se era un olo mi diceva, bene Invece, oh mio Dio Charles E io lì ho detto Oh cavolo, oh cavolo, oh cavolo Ma chi ha aperto, quello che ho trovato lo volevo trovare Una crystal e l'hunter Non mi interessa se ho trovato Ma è adesso olo, no? No è olo, è olo Oh Dio È olo, anche perché in acquavori se non sbaglio ci sono solo le olo Ragazzi la olo che amo di più è No mamma mia In dieci bustine ragazzi Voi non immaginate quanto è difficile trovare una crystal Voi nemmeno lo immaginate Ma in pratica è come una full art Qualcosa del genere Cioè aspetta Aspetta Poké Shiny In 37 bustine di Skyrige Poké Se guardi questo video Ciao 37 bustine di Skyrige Ha trovato solo due crystal Due E Skyrige è un set dove ce ne sono un sacco Quindi le possibilità aumentano Mamma mia ragazzi No perché il mio capolega diceva Non troverai niente Goturi allo stato burro ragazzi Mamma no Io non ci credo Io non ci posso credere Io Io non ci posso credere Ed è fuori serie Perché è 150 sul 147 Mamma mia Mamma mia ragazzi È Lanternolo Che è la mia olo preferita Aspetta Bustina di Entei L'ultimo L'ultimo Esatto Meno male Gran finale Finale con Non so cosa Ragazzi Io non so veramente Che dire Spolliciate di brutto Per questa apertura E io poi pure sono crepato Io adesso questo video me lo voglio Ma che poi ragazzi Due cinci Uno reverse Uno Per me Allora Che sia chiaro Per me Queste quattro carte Queste quattro Valgono come Oro Un box Dai Poi questa crystal E questa è la tua prima crystal Sì In 10 bustine Ok ragazzi Questo video direi che Cioè ci sono già stati abbastanza Abbastanza momenti di sclero Quindi io direi che Va bene Tutto con questo video Mettete mi piace a queste due bellezze Mettete mi piace a me Per questo mio sclero Scrivi se volete Che porti fortuna Dei vostri video Addio 8 Scrivete adio 8 Di 1680 Che è un Porta fortuna Come non so cosa Boh E quindi questo Ragazzi veramente Non ci posso credere Sbalordito Sono sbalordito Veramente C'è una crystal In 10 bustine È rarissimo Wow Quindi va bene Questo è tutto Alla prossima da Charm E mi raccomando Andate anche nella mia pagina Facebook Quindi alla prossima Da Charm Saluta Ciao ballera Ciao a tutti Ciao ballera